Amici miei, sto rifacendo la cameretta a mia figlia e questa è la situazione attuale. Un vero macello, l'ho svuotata e adesso devo procedere alla pittura. Mi sono munita di colore bianco e tanti glitter rosa. E sì, perché mia figlia vuole una camera total white e pink. Tra l'altro questa è la cameretta dove ho vissuto la mia adolescenza e mi fece pittare questo muro stile etnico. All'epoca andava tanto. Addio per sempre! Bando alle ciance ho voluto acquistare qualcosina su Shane per la sua cameretta. Vi mostro tutto. Grazie a tutti! E questo è quanto. Ah no, dimenticavo. Dato che alla fine sarò sicuramente stressata, ho deciso di prendere questo massaggiatore per cui ho capelluto. Ah, non fermatemi più. Vi mostro una panoramica dei miei acquisti su Shane, fatemi sapere se vi sono piaciuti e consigliatemene altri, mi raccomando, rosa e bianchi. Un bacione e vi lascio il mio codice sconto.